Se siete arrivati a questo video è probabilmente perché conoscete Steven Universe e qualcuno vi ha convinto a guardarlo e ovviamente è sempre la solita storia, ma non vi preoccupate, ho messo in descrizione tutti quanti i link utili che rimarranno aggiornati nei prossimi anni per assicurarmi che abbiate sempre un video di riferimento dove trovare tutto quello che vi serve per poter vedere Steven Universe. Quindi qua sotto troverete tutto quello che vi serve, ogni link a ogni sito che ho trovato dove è possibile vedere Steven Universe che è disponibile su varie piattaforme. A partire da Mediaset Play a Netflix, ma non so come sarà in futuro, quindi ovunque sia disponibile trovate tutto quanto qua sotto specificando quando è censurato, quando non è censurato, se è completo, se manca qualcosa e così via. E magari aggiornandolo eccetera. Tutti quanti i link che vi possono servire, ok? È chiaro? Nonostante ciò nel corso del video ho pensato di spiegare un po' che cos'è Steven Universe e come vederlo ho visto che un sacco di gente chiede, ma da dove devo partire? Devo partire dal film? Devo partire dai fumetti? Devo partire... Beh, vi rispondo io, non vi preoccupate. Allora, Steven Universe è una serie animata statunitense della Cartoon Network realizzata completamente a mano e che coinvolge tantissimi animatori del passato, tra cui James Baxter, quello che ha fatto Spirit Cavallo Selvaggio, ma anche un sacco di altri da Takafumi Ori a un sacco di gente che ha lavorato da Adventure Time e Rebecca Sugar. Si tratta di una serie famosa per la sua enorme qualità, vincitrice di numerosi premi, quindi si tratta di qualcosa che, e beh, non vi pentirete di aver visto. Ma, ma, anche tra i fan c'è un certo astio verso soprattutto la prima stagione e così via. Quindi, nel primo dei commenti, o quantomeno quello che io metterò più in alto, troverete un elenco, a mio modesto parere, degli episodi che potreste saltare. Ora, ora, non è che nella serie ci siano episodi filler, perché tutti gli episodi sono stati previsti dalla creatrice per un motivo. Nonostante ciò, se non siete persone in grado di sopportare una serie particolarmente lunga, vi farò un elenco di tutti quanti gli episodi che potete fare a meno di vedere. In ogni caso, Steven Universe inizia con la prima stagione, che dura 52 episodi, chiaro? E ha subito varie censure in Italia, ma non vi preoccupate, il doppiaggio italiano è meraviglioso e non c'è assolutamente nulla che non vada né grossi problemi di censura, anche perché nella maggior parte dei casi si tratta di censure solo grafiche, che nel link qui sotto troverete, beh, incensurate. Quindi non vi preoccupate per le censure, perché risolvo tutto io. Ora, Steven Universe parla di questo bambino che ha ereditato i poteri magici di sua madre e ora deve combattere con le Crystal Gems, solo che lui è un bambino maschio, mezzo umano, che quindi si sente un tantino inadatto e deve cercare di rispondere a un grosso, enorme lutto che le sue genitrici stanno affrontando e da lì in poi la trama si sviluppa e diventa qualcosa di pazzesco, inaspettato, sempre più grande. Ora, la serie ha avuto successo, quindi sono state fatte cinque stagioni e le cinque stagioni sono una dietro all'altra, quindi c'è la prima stagione di 52 episodi, la seconda, la terza e la quarta che ne hanno 25 e 26 e poi c'è l'ultima, la quinta che ne ha 32. E con questo finisce Steven Universe, non c'è altro. Ora, se siete confusi perché avete sentito nominare un sacco di altre cose, vi spiego io. Allora, i fumetti non sono canonici, sono cose che sono state pubblicate da Toonway in Italia e che continueranno ad essere pubblicate in futuro. Nonostante ciò sono piccole storielle, pensate soprattutto per bambini o comunque giovanissimi adolescenti e che non hanno nulla a che fare con la serie, non sono state fatte dalle stesse persone che hanno fatto la serie e magari riguardano episodi che sono stati cancellati per un qualche motivo. Poi il film. Il film è ambientato diversi anni dopo la fine della quinta stagione. Quindi una volta che avete finito tutto Steven Universe, dalla prima alla quinta stagione, potete passare al film che è ambientato dopo la quinta stagione, dopo il finale della serie. Anni dopo? Poi avrete sentito nominare la serie Steven Universe Future. Ebbene, Steven Universe Future parla di avvenimenti che avverranno anni dopo il film ed è una miniserie per concludere le ultimissime domande che erano rimaste in sospeso e per mostrarvi che cosa succederà alla fine della fine della fine della storia. Ed è un piccolo extra che, secondo molti fan, potete tranquillamente saltare. Se volete opinioni sulla serie da parte mia, guardatemi i miei video. Questo video serve soprattutto per aiutarvi a trovare la serie e a capire come guardarla. Avrete sentito nominare magari dei cortometraggi dell'episodio pilota? Allora, l'episodio pilota è un episodio extra, non è necessario vederlo, è comunque l'episodio che è stato fatto di prova per vedere come sarebbe uscita la serie. Mentre i cortometraggi sono dei corti di 2-3 minuti che sono stati pubblicati nel corso delle varie serie e che a volte sono molto famosi, a volte sono stati completamente ignorati, a volte sono diventati meme, a volte hanno delle scene che sono tra le più famose dei Stevenioni e verso altre volte non servono a nulla. E sono dei piccoli corti, sono 12, sono mini corti extra che troverete nel link che vi metto qua sotto, ma non vi preoccupate, potete tranquillamente saltarli, non è nulla di importante, anche se sono canonici. Ok? Ora, arrivati a questo punto, posso dirvi che dovete semplicemente ricordare che la stagione 1 è la prima e si procede fino alla quinta stagione di Steven Universe. Poi, a parte, dopo c'è Steven Universe il film. A parte, dopo c'è Steven Universe Future. Qualsiasi altra cosa è facoltativa o non canonica. Quasi dimenticavo, ogni episodio dura solamente 10 minuti. 10 minuti e non un minuto di più. Ok? Non è una serie dove ogni episodio dura 40 minuti. 10 minuti. E sono circa 150 episodi in tutto. E questo significa che a livello di durata è come se fosse una serie normale da 70 episodi. Quindi sostanziosa, finita lì con i 70 episodi e basta. Ok?